Tutto in italiano? Non è facile per me. Ma va bene. Facciamolo in un'altra. Ripeto ciò che hai detto. No, posso dire dove è la farmacia e così. Poche chiacchiere, 500 per 2. Grazie a tagliare questa parte. Questa marca è molto leggera. Ah, come on, you know, that's, 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 that's... Cerelo, 500 per tutti! Tutto bene a bordo? No, andate ancora. Siamo qua con Manuel Costantin che io reputo uno degli armatori più dinamici di tutti. Infatti vi sono subito una. Non ce l'ho più. che è stato capito con i due 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 due. I più tanti di un altro'altro'altro'altro'. Ughhh. Sì, è sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti